Ma cos'è successo? Non funziona! Si è bloccato tutto! E' impazzito il mio telefono! Come faccio adesso? Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia. Benvenuti! Bene, se vi è successo questa cosa che non riuscite a capire come mai, non vi preoccupate, in pochi secondi potete risolverlo. Tenete premuto il tasto del volume più e meno assieme per più di tre secondi e potete disattivarlo. Disattivato! Molto semplice, l'abbiamo disattivato. Ma perché si attiva il talkback e che cos'è il talkback? Il talkback è un sistema che praticamente come l'abbiamo disattivato potete anche attivarlo perché se io tengo premuto i tasti più e meno per più di tre secondi. Ok. Che cos'è il talkback? E' un assistente vocale per i non vedenti oppure per chi non appunto non ci vede bene. Può essere anche un servizio in più però quando si attiva per tutte le persone che non vogliono attivarlo è molto fastidioso. Quindi avete visto per disattivarlo tengo premuto i due tasti, il volume più e il volume meno per più di tre secondi si disattiva. Se non funziona così, quando dovete scorrere vedete che con una mano non funziona. Dovete fare per forza con due dita. Ok. E da qui possiamo andare in postazioni. Però per dargli l'ok non posso premere una volta come è normale. Devo premere due volte. Quindi premo due volte e vado sulla home. Con due dita faccio scorrere giù la tendina. Vado in impostazioni. Clicco due volte logicamente per dare la conferma. E non va neanche così. Impostazioni. Vado su talk back. Digito talk back. Vado dentro su talk back. Sempre doppio click. Talk back on. Premo due volte. e disattivo. Ah, resta talk back. Diciamo che questa è uno dei sistemi quello più lungo. Ma io vi consiglio sempre e adesso dovrebbe funzionare al 100% tenendo premuto il tasto volume più volume meno. C'è chi ce l'ha da questa parte. C'è chi ce l'ha da questa parte. Ma di solito il bilanciere è sempre o da destra o da sinistra. Quindi magari togliete la custodia se volete premere di meglio e contemporaneamente vanno premuti per più di tre secondi e vi appare la scritta talk back disattivato. Bene signori. Spero di avervi dato una mano e di avervi aiutato. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like. Iscrivetevi al canale. Non costa nulla. Basta premere il tastino iscriverti e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao.